Ciao a tutti, volevo consigliare di andare a un evento gratuito che si svolgerà a Milano dal 16 al 18 giugno, il White Street Market, vi lascio il link qua sotto, si parlerà di subculture, ho fatto anche un video al riguardo sull'orocca... ciao! Ho scoperto come sarò da vecchio, questa è una foto di me nel 98, sarò un po' calvo, con gli occhi cadenti, triste, con la polo Questo sono io che mangio una banana, guardate che carino, guarda! Ciao! Ciao! Ciao!